Benvenuti sul canale di Non Aprete Questo Blog, io sono il Gonza e se siete miei sostenitori, bentornati sul canale di Non Aprete Questo Blog, vi voglio bene Allora, oggi sono qua per fare una recensione a caldo proprio, perché il film l'ho visto ieri sera e sono anche abbastanza contento di quello che ho visto Sto parlando di uno BR, nuovo film della Midian Factory Purtroppo in questi mesi stanno uscendo pochissimi film Io penso che sia anche un problema legato alla situazione che c'è adesso Cioè, è un po' una situazione Comunque, se volete sapere cosa ne penso di uno BR rimanete qua a guardare il video ma prima, prima, iscrivetevi al canale se vi interessano le mie recensioni se siete appassionati di horror, mettete like al video e vediamo un po' di che cosa parla questo uno BR sempre molto belle le copertine sempre meravigliose le grafiche sono sempre il top del top intanto si chiama uno BR benvenuti nell'incubo ha partecipato a diversi festival ed è un'altra sorpresa una sorpresa come poteva essere Tiger Are Not Afraid o Bliss che sono due ottimi film e anche questo è un ottimo film anzi, più ci penso e più è un ottimo film sono straconvinto che sia un ottimo film allora, vediamo di che cosa parla allora, Sara questa ragazza qua che però è molto più carina di così è proprio carina carina ed è anche molto brava come attrice e non è l'unica brava sono bravi anche gli altri attori sono tutti bravi gli attori non ce n'è uno che non è bravo Sara è una ragazza che insomma si è allontanata da casa è grande insomma sta cercando di trovare il successo a Los Angeles e trova un annuncio dove andare a vedere una casa insomma quando arriva è pieno di gente quindi dice no vabbè ma con tutta questa concorrenza non avrò mai questo appartamento in affitto invece stranamente viene richiamata dal proprietario insomma la casa le viene data in affitto e lei va a vivere in questa specie di condominio dove tutti sono molto gentili e premurosi con lei ma non è tutt'oro quello che luccica non vi voglio dire troppo magari verso la fine vi faccio una parte spoiler quindi interrompete la visione del video quando ve lo dirò io è un film dalle tematiche distopiche e questo mi ha sorpreso tantissimo perché non me lo aspettavo proprio e non vi posso dire esattamente di che genere di horror si tratta perché vi rovinerei la sorpresa però vi posso dire che ha quella caratteristica che a me piace tantissimo e che su di me funziona nel senso che io non mi sono reso conto bene di cosa succedeva ho intuito ma non ho capito dove andava a parare questo è un film dove non capisci bene cosa accadrà dopo ogni step è abbastanza oscuro e questo rende la visione piuttosto divertente perché non non è prevedibile è davvero un film imprevedibile se non per alcune piccole cose ottimi gli effetti speciali e anche se devo dire che la quantità di sangue e di violenza è poca questo è un horror molto più psicologico ci sono tantissimi richiami a film ben più noti come Midsommar e altri film del passato però devo dire che l'ho trovato molto originale nella sua rilettura di certe tematiche ed è un film che vi consiglio a scatola chiusa proprio se siete soprattutto amanti delle nuove promesse del cinema horror questa è una nuova promessa del cinema horror niente di estremamente eccezionale come potrebbe essere un altro autore come Ari Aster o Jordan Peele ma comunque siamo veramente a un buonissimo livello un O.B.R. lo trovate anche sul canale Prime Video della Midnight Factory attivando l'abbonamento potete fare la prova gratuita vi lascio il link in descrizione per fare la prova gratuita del canale così vi vedete il film vi faccio vedere l'edizione e poi passiamo alla parte spoiler c'è ovviamente lo slip case non ci credo che l'ho lasciato è talmente fresca questa recensione mi perdonerete mi perdonerete mi perdoneranno tutti anche Midnight Factory perdonatemi Midnight è difficile chiedere il perdono a persone malvagie come quelle di Midnight Factory perché dovete sapere che loro sono veramente malvagi e generano fanno uscire questi prodotti malvagie perché sono cattivi quindi io ho molta paura di quello che mi accadrà comunque ho lasciato il blu-ray dentro al lettore quindi niente comunque guardatemi guardatemi solo la guardatemi solo la il libretto comunque il blu-ray è la stampa del libretto insomma mi sembra se non ricordo male il libretto da leggere perché c'è un'analisi del film curiosità buoni sconto ma non è vero che ci sono buoni sconto però ci sono foto foto del film dai cerco di recuperare perché non ho messo dentro il blu-ray scusate il blu-ray va bene niente questa è l'edizione vabbè non me ne vogliate se non vi ho fatto vedere il disco però insomma non è che adesso mi mettete il dislike perché non vi ho fatto vedere il disco questa è l'edizione e ora magari parlo un po' più spoiler del film quindi se non l'avete visto stoppate qua il video allora quello che vi voglio dire su questo film è che mi è piaciuto tantissimo il tema della setta perché poi alla fine appunto loro sono una setta mi è piaciuto come è spenta la vaffa no non è spenta ho apprezzato anche tantissimo il finale che non solo fa vedere che appunto la ragazza era stata chiusa dentro questo condominio ma che i condomini sono molti di più e che c'è qualcuno che controlla dall'alto in modo molto più organizzato e questo l'ho trovato molto bello e molto distopico quindi è veramente un'apertura anche diciamolo anche alla possibilità di un sequel e devo dire che in questo caso siccome il film mi è piaciuto non ci vedrei male un sequel se è scritto bene e se ci sono altre cose da dire questo perché comunque noi ragioniamo tanto nei termini del sequel ma ho sempre apprezzato i film con il finale aperto perché danno molto molta possibilità a chi ha guardato il film di spaziare con la mente di continuare a pensarci a cosa potrebbe accadere e immaginarselo lui questo trovo che sia una delle parti più affascinanti del cinema e di questo tipo di film ho apprezzato tantissimo la recitazione dell'attrice protagonista l'ho trovata brava credibile in tutte le situazioni in una parte molto difficile in cui doveva sembrare soggiogata insomma non soggiogata circuita da questa da questa situazione quindi convinta poi a restare lei è stata veramente molto brava vi consiglio assolutamente di vedere il film in lingua originale perché io non ho idea di come sia doppiato e vi posso dire che però in lingua originale è recitato molto bene era molto bravo un attore di esperienza che abbiamo già visto in altre situazioni il capo della setta che poi viene ucciso con il punteruolo o col cacciavite mi sembra col cacciavite viene ucciso da lei molto bravo lui molto bravo anche l'attore più giovane che ha il suo braccio destro mi sono piaciute anche tanto le tematiche che giustificavano l'esistenza della setta all'inizio quasi ti viene da pensare che loro abbiano anche ragione nel senso che la nostra società per com'è è assolutamente malata e inculca degli stereotipi e degli ideali degli obiettivi piuttosto discutibili come la smagna per il successo affermarsi per un posto di lavoro una professione quando poi alla fine si rimane senza gli affetti senza senza riempire la propria vita di ciò che è veramente importante che sono poi in realtà i sentimenti l'amore le emozioni quelle sono le cose importanti poi in fin dei conti quindi questa ricerca continua del successo di tutto ciò che in realtà sono desideri che ci vengono proposti sono gli elementi di una società malata e distorta e questa setta all'inizio sembra quasi anche aver ragione nel voler proporre qualcosa che è meno materialistico meno legato a come ormai siamo abituati a vivere però allo stesso tempo rappresenta anche quell'imposizione che c'è in moltissime dottrine religiose per cui appunto quella è appunto una setta patriarcale basata sul patriarcato quindi l'uomo o il capo del villaggio decide che l'uomo che è rimasto senza la donna si deve prendere la donna che è lei che la ragazza se la deve prendere come moglie quindi senza che lei possa decidere ci sono veramente un sacco di tematiche interessanti il film è bello gli effetti speciali sono pochi ma funzionano è veramente un ottimo film secondo me il regista è bravo il soggetto è figo e devo dire che si dovrebbe parlare un po' di più di questo piccolo caso è un film che lo metto comunque non tra i film capolavoro che sono usciti in questi anni come possono essere The Witch Midsommar Ereditari ci metto anche noi tra i film che io considero veramente veramente importanti di quest'epoca non lo metto tra questi ma lo metto appena sotto insieme ad altri film indipendenti come Bliss Tiger Are Not Afraid e alcuni altri che vanno tenuti d'occhio secondo me e soprattutto considerati di più perché sono film validi questo è tutto per la parte spoiler del video vi ringrazio per essere stati qua fino alla fine se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per ricevere notifiche e seguiteci anche sugli altri social pagina Facebook gruppo Facebook pagina Instagram gruppo Telegram canale Telegram ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.